Allora, si è disattivato. Bentornato a casa, Marcus. Grazie. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Sono le dieci. Ci sono nuvola sparse e dodici gradi. Ottanta per cento di umidità, con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Sono passato a prendere i colori che hai ordinato. Sì, l'avevo dimenticato. E questa è la differenza tra me e te, è vero, Marcus? Non dimentichi mai niente. Per favore, dammi il braccio, Carlo. No. Carlo. Ti ringrazio. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Gli umani sono macchine così fragili. Eh, si rompono in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Ok. Ti porto in bagno adesso. Faccio. Oh. Qualcosa di speciale in agenda oggi? Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Il direttore ha lasciato ben quattro messaggi per confermare la tua presenza. Non ho ancora deciso. Ne parliamo più tardi. Ok. Altro? Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Hai notizie di Leo? No, Carl. Posso chiamarlo, se vuoi? No. No, lascia stare. Muoio di fame. La colazione è pronta. Bacon e uova, proprio come piacciono a te. Grazie, Marcus. Di nulla. Se vuoi fare come, come. zinc셀 da fare come piacciono ilermo. Si. La colazione la colazione è pronta. Sì. flamesinkling a te, per least sono pura. Ci vediamo. Grazie. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carlo. ...appartiene a loro. ...appartiene a trovare un accordo prima che la situazione precipiti. ...appartiene a trovare un accordo prima che la situazione precipita. 5.000 anni di civilizzazione solo per arrivare dove siamo ora. 5.000 anni di civilizzazione solo per arrivare. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Dove eravamo rimasti? Togli l'anzuolo. Togli l'anzuolo. Togli l'anzuolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Provaci. Prova a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. È una copia perfetta... della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io... non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Fai una cosa per me e chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire e lascia che la mano scivoli sulla tela. Per me e chiudi gli occhi. Per me e chiudi gli occhi. Ehi, Pa. Leo. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh. Stai bene? Non sembri in forma. Oh, sì, sì, sto bene. Ehi, senti, mi servono dei soldi, Pa. Ancora? Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Eh, oh, beh, sai, finiscono e basta, no? Ti stai facendo ancora, vero? No, 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 ti giuro, non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza, Pa? Ho bisogno di soldi, tutto qui. Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci, preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, Pa, cos'ha lui più di me? È intelligente? È obbediente? Non come me, vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio. È una cazzo di macchina! Leo, ora basta. Basta. Non ti frega di niente, solo di te stesso e dei tuoi quadri del cazzo. Non vuoi bene a nessuno. Non vuoi bene a me, Pa. Non mi vuoi bene. Non mi vuoi bene a me, Pa. Non mi vuoi bene a me, Pa. Non mi vuoi bene a me. Merda, pensavo che gli androidi non entrassero qui. È un problema... Puoi offrirmi da bere? Tenente Anderson, mi chiamo Connor, sono l'androide della CyberLife. L'ho cercata in centrale ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna al quinto bar l'ho trovata. Cosa vuoi? Le hanno assegnato un caso oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della CyberLife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto. Specialmente da un coglione di plastica come te. Perciò fai il bravo robot e levati dalle palle. Posso capire che alcuni si trovino a disagio in presenza di androidi, ma io non... Non sono per niente a disagio. Levati dalle palle prima che ti schiacci come una lattina. Ascolti, forse deve smettere di bere e venire con me. Sarebbe più facile per entrambi. Le chiedo scusa, tenente. Non volevo importunarla. La aspetterò fuori. Stia tranquillo. Hai detto omicidio? Aspetta qui. Ci metto un attimo. Come preferisci, tenente? Sì, certo. Come preferisco. Just Douglas di Channel 16, può confermare che si tratta di omicidio? Non confermo un bel niente. Gli androidi non possono proseguire oltre. Lui è con me. Quale parte di resta in macchina non capisci? I suoi ordini contraddicono le mie istruzioni. Non dici niente, non tocchi niente. Non mi rompi le palle, intesi? Certo. Buonasera, Anka. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un android, eh? Ah, divertente. Dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le otto. Erano mesi che l'inquilino non pagava l'affitto, quindi è venuto a dare un'occhiata. E così ha trovato il corpo. Oh, merda, che puzza! Prima di aprire le finestre era ancora peggio. Il nome della vittima è Carlos Ortiz. Ha precedenti per furto e aggressione arrata. Stando ai vicini era un tipo solitario. Stava quasi sempre in casa, non lo vedevano mai. Ah, nello stato in cui è, perché scomodare il mondo nel cuore della notte? Meglio aspettare l'alba. Io dico che è lì da tre settimane buone. Li sapremo di più quando arriverà al corner. Qui c'è un coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Qualche segno di effrazione? No, il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito da retro. Cosa sappiamo del suo androide? Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era al nostro arrivo. Devo prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori se bisogna. Dio santo, ma che cazzo fai? Sto analizzando il sangue. Posso controllarlo in tempo reale. Mi scusi. Dovevo avvisarla. Ok, però... Infilarti altre prove in bocca, intesi? Certo. Porca troia, non ci posso credere. Lettere perfette. Manche troppo. Nessun umano scrive così. Chris, ha scritto col sangue della vittima? Direi... Proprio di sì. Prenderemo dei campioni da analizzare. Red Ice. L'amico che... Carlos amava divertirsi. Chris voglio un test antidroga completo. Non ci posso... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben finito di prendere i campioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il killer è uscito di qua. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No. Questo tipo di suolo trattiene le tracce. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Ma che succede? Doveva essere qui di mezzo da parte. Doveva essere qui di mezzo da parte. Grazie a tutti. 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 Tutto orecchi. Tutto è iniziato... in cucina. Ci sono segni di collottazione. La domanda è... cosa è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide... con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continuo. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? E poi che è successo? E la vittima è scappata... in soggiorno. In soggiorno. E ha provato a fuggire dall'androide. l'androide ha ucciso la vittima... l'androide ha ucciso la vittima... con il coltello. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio. Ma non ci dice dov'è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato... e ha perso del Tyrion. Ha perso cosa? Tyrion. Lo chiamate Sangue Blu. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Evapora dopo qualche ora... e risulta invisibile all'occhio umano. E scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già. Il fluido che punta la faim idiotica eва... Un è l'oc��. Ha disperto Natan. Harpero. 68 upset by 1996 32 busted not mania z quiно. Ehi, 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 cosa fai con quella sera? Provedo a verificare. Ah, verifica, sì. Ah, verifica, sì. Ah, verifica, sì. Mi stavo solo difendendo. Mi avrebbe ucciso. Ti scongiuro. Non dirglielo. Conor, ma che cazzo sta succedendo? Qui, tenente! Oh, merda. Chris, Ben, venite inmediatamente qui. Muovetevi! Muovetevi! È pronto? Sì, sì, arrivo. Non c'era molto in cucina. Ho fatto il possibile. Ho fatto il possibile. Strana la vita. Perdo il lavoro per colpa degli androidi. E quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa, che cosa faccio? Esco. Esco e assumo un cazzo di androide. Pazzesco. Certo, gli androidi del cazzo sono così incredibili. non sbagliano, non si stancano, non sono mai tristi. Sono così perfetti che mi hanno rovinato la vita, cazzo! Che hai da guardare? Che cazzo di problema hai? Non è la vita che sognami, eh? Credi forse che sia facile? Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa pogna? È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd. A volte mi fai davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza dire una parola. La stronza mi lascia per un impiegato del cazzo! È tutta colpa tua. Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Torna qui. Torna qui. Torna qui subito! Colpa sua. So che è colpa sua! Devo darle. Devo darle una bella lezione. Se tu resta lì, non provare a muoverti o ti concio peggio dell'altra volta. Tu resta lì, non provare a muoverti o ti concio peggio dell'altra volta. La troia mi lascia senza dire niente Non deve essere felice Potrebbe avere una famiglia, ma no Ho pregato un cazzo di come stavo Ho fatto di tutto per renderla felice Vieni, vieni qui, faccio sento No, papà, no, non vinghiarmi, ti prego, non vinghiarmi Vieni fuori Ma ti prego Per il tuo bene, Alice Ora basta Lasciala stare Che cazzo fai? Metti giù la pistola e togliti dal cazzo È un ordine No, devi lasciarla stare Devo? Se no, cosa fai? Cosa cazzo farai? Sparerai, è così? Sparerai a un umano? Sembri avere un problema Penso che dobbiamo risolverlo Attenta, cara! Vieni qui, troia Basta, papà, non vinghiarla! Lascia restare E fai come ti dico Non vinghiarla! I MC Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.